E' in corso di svolgimento nel complesso della badia grande di Sciacca la non-edizione dello Sciacca Film Fest, che anche per la giornata odierna si presenta con un programma ricco di appuntamenti e molto variegato. Alle 20, Ninni Bruschetta, regista, attore e sceneggiatore anche di serie televisive di successo come Squadra Antimafia e Boris, presenterà il suo libro manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista. Proseguirà anche oggi, dalle 17, nella Sala dell'Albero, la proiezione delle pellicole in lingua originale provenienti dai paesi del mondo arabo e la proiezione del secondo blocco delle opere in concorso delle tre diverse sezioni del festival, corti, lungometraggi e documentari. Al via oggi con la proiezione del film passato prossimo alle ore 18, la retrospettiva dedicata a Maria Sole Tognazzi, la regista arriverà domani alla badia grande e sarà la protagonista della giornata. Ospite di questa sera invece saranno il produttore Gianluca Arcopinto e il regista Giuseppe Schillaci per la sezione Incontri con l'autore, che in anteprima nazionale alle ore 20 presenterà L'ombra del padrino, ricerche per un film, una produzione italo-francese. Per la sezione Cinema Invisibile, alle 21.30, presso la Sala dei Palchi, verrà proiettato il film Dio esiste e viva Bruxelles di Jaco Van Dormel. Ieri sera, con il concerto di Irene Veneziano, si è conclusa la rassegna Sciacca Classic Fest, ma stasera la musica tornerà ad essere protagonista, alle 23, nel cortile Orchidea, con il concerto di Paolo Scannabissi, The Immigrant, che proporrà un'esecuzione pianistica di brani per la maggior parte composti dal grande Charlie Chaplin, per la colonna sonora dell'omonimo film. Un concerto particolare dove il musicista alternerà alle note anche la spiegazione e il commento dei brani eseguiti. E per chi non riesce ad andare a letto, lo Sciacca Film Fest propone, mezz'ora dopo la mezzanotte, la sezione After Hours, con la proiezione stasera di The Hadars, pellicola del 2001 di grande successo con Nicole Kidman.